Bene ragazzi io sono Martex bentornati su una nuova guida di Fortnite Raga prime sfide della season 10 Il tempo vola e per me è sempre un piacere portarvi delle guide super fresche qui sul canale La guida di oggi tratterà il distruggere i segnali di stop con il costume catalizzatore La skin di cui parla la missione è proprio questa qui che sto portando Nonché la prima che viene sbloccata appena comprate il pass battaglia Inoltre vi ricordo che se tutte queste guide che carico assieduamente qui sul canale vi saranno di aiuto Potete supportarmi con il mio codice creatore JKR Martex Tutto attaccato maiuscolo minuscolo uguale nello shop Comunque andiamo a distruggere questi segnali di stop Ragazzi ci dirigeremo in una sola location perché è davvero easy da completare Ovviamente i segnali di stop che dobbiamo cercare per completare questa missione sono sparsi per tutta la mappa Ma soprattutto ragazzi vi consiglio di visitare Parco Pacifico perché è piena Ovunque vi giriate ragazzi troverete questi segnali Quindi cominciamo a distruggere Allora ne abbiamo già 1 su 10 Il secondo è qui E si va Si continua Terzo Lì ce ne sono altri verso nord È pieno raga è pieno È una cosa anormale Quindi vi consiglio assolutamente di visitare Parco Pacifico E completare in pochi secondi la missione qui Oltre a tutti quelli che abbiamo già distrutto nell'ala ovest ragazzi Controllate anche questi posti verso est Ad esempio qui ce ne sono già altri 3 Raga ripeto è veramente facile da completare In pratica se riuscite ad atterrare da soli a Parco Pacifico senza rotture di scatole avete completato la missione Quindi ricapitolando il mio consiglio principale ragazzi Buttatevi a Parco Pacifico Non interessa se la fate anche in partite diverse Rompetene 3, 4 Cercate di fregarli anche ai nemici soprattutto E nient'altro Io spero di esservi stato d'aiuto raga Se così fosse mi raccomando vi invito a lasciare un bel like Condividere il video con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti E noi ci becchiamo in un prossimo video guida Un saluto da Martex SIA BROTHER SIA BROTHER